Allora dopo... insomma io vado e... e dopo... Capo, ce l'hai l'arma? Sì! Oh! 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 Uff, questa fila... Questa è un'arma... Questa è un'arma... Dove va? Vuol fare il furbo lei? Io non faccio... Ma vada a fare la fila... No, guardate... Eccolo noi... No, non l'avete... No, non l'avete capito... Non l'avete capito... Questa è un'arma... Scusi, permesso? Fa passare... Permesso? Abbiamo pazienza? Niente... Ma dov'è? Dovrebbe essere... Dov'è? Sto cercando, scusi... Ah, eccola qua... Ecco, la metto incinta... Ecco... E si comincia... Trentamila... Come trentamila? La sua cambiale? Ma qua? Ma quale cambiale? La sua, paga trentamila, signore... Ma non è mia la cambiale... Questa è la cambiale... E di... E di questo signore... E dica qualcosa che è sua la cambiale... Sia umano, scusa... Allora? Ma come, allora... Io... Io non... Guardi che ce l'ho incinta io, eh... E ognuno ha i propri guai, signore... No, guardi che io sono venuto qua... E che succede? Non vuol pagare? Eh, no, perché io sono venuto qua per... Per pagare una cambiale... E allora la paghi e via, se ne vada... Eh, vabbè... Ho solo... Ho solo cinquantamila lire... Beh, che vuol dire? Le diamo il resto... Eh, vabbè... Allora, mi dia... Va bene... Sì, ma no... Ma la cosa è che... Ero venuto qui per... No, 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 sento, non mi fai perdere tempo... Signora... Uscere, per cortesia... Accompagni fuori questo, signore... No, guardi che le giuro... Faccia presto... Ma... Ma come? Ma guardi che lei mi aveva... Lei non deve smettere di incorturare... Vada via, su, via... Ma io non ne posso più... Allora, anzi, qui non ha capito nessuno... Che questa è una ra... Oddio, cosa? Si sente male? Presto... Questa è una... Una banca? No, questa è una ra... Una radio? Una rana... Una raucedine Una racchetta Una ratifica Una radiografia Una ramazza Un cavallo Un cavallo, ma che cavolo dici? Una radice Una raccolta Una razione Razatura Una rapa Una rapola Una rapetta Una rapuccia Una rapina Una rapina Brava, la signora ha indovinato... Ma poteva dirlo subito, no? Ecco, signori, è una rapina... Allora tutti con i bracci alzati, il resto... Ma lei no, scusi, cosa c'entra a lei? Avanti, preparate il denaro, svelti Scusate Ma mi dica, lei la valigia da rapina ce l'ha? Io, no Una valigia da rapina al signore Che pezzatura vuole? Quello che vuole lei Anche valuta straniera? Si, si Va bene, avanti Va bene così, le basta? Eh, ma anche troppo Bene, chiudere Scusi Devo seminare al panico Una bomba No, no, manico Mi sei fiata Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Oddio 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 Oddio